Sbarcare Informati Garantendo un soggiorno breve e non impegnativo presso le strutture detentive dello Stato I gentili clandestini invece saranno prelevati direttamente dai natanti su cui viaggiano E trasportati a bordo delle imbarcazioni della Marina sulla terraferma I cortesi ospiti saranno in breve tempo trasferiti a piccoli gruppi in strutture alberghiere Dislocate su tutto il territorio nazionale Dotate di ogni confort con servizio all'inclusive Grazie a un coupon giornaliero del valore di 30 euro più IVA a persona Per un minimo di oltre 1000 euro ogni mese Gentilmente offerto dai contribuenti italiani In omaggio riceveranno inoltre una ricarica telefonica del valore di 15 euro Più un contributo quotidiano per le piccole spese È bene precisare che chi preferisse allontanarsi spontaneamente Facendo perdere le proprie tracce Sarà libero di farlo in qualunque momento E senza contestazione alcuna da parte dell'autorità italiana Grazie per la cortesa attenzione e a presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.